Il festival ufficialmente inizia domani, anche se stasera al cinema Masaccio di San Giovanni il Fedici vedrà il sipario alzato con Anteprima Toscana dedicata alle opere degli autori della nostra regione che non hanno trovato spazio alla rassegna. Giornata intensa però domani vissuta su tre momenti diversi, dalla mattina al pomeriggio per concludere con la sera. Partiamo la mattina con la vetrina Fedici e poi ci sono gli splendidi cinquantenni e successivamente inizia il concorso, le proiezioni del concorso e la sera è Capuano. Ogni sessione alla fine vedrà un incontro con gli autori ma il clou sarà la sera appunto con la consegna del premio Fedici a Capuano e quindi sarà proiettato il suo bellissimo amore buio. L'ingresso è gratuito, la cittadinanza è invitata a partecipare. Grazie a tutti.